In Pressing per il voto anticipato c'è anche il Movimento 5 Stelle che da una parte definisce propaganda, le parole di Letta sulla diminuzione delle tasse e dall'altra rilancia il contro discorso di Grillo sul web in contemporanea con Napolitano. Ancora una volta il governo Letta racconta bugia agli italiani. I cittadini e le piccole e medie imprese in questo momento stanno facendo i conti con l'aumento degli acconti IRAS, IRAP ed IRPEF, con l'aumento della TARES e delle accise sul carburante.